Ancora pochi giorni e sarà operativa la postazione medica avanzata in via di allestimento nell'area antistante il pronto soccorso dell'ospedale di Miccoli di Barletta. Gli uomini della Marina Militare lavorano instancabilmente per assicurare quanto prima il sostegno sanitario agli ospedali della BAT in affanno nella gestione dell'emergenza Covid. La fisionomia della struttura ha già preso corpo. Due blocchi di cinque tende dedicate all'adegenza e all'area medica, completamente isolate dal terreno e pronte ad accogliere sino a 40 pazienti Covid. Una volta terminati i lavori, spiega il capitano di vascello Aldo Sciruicchio, comandante del primo reggimento San Marco, la postazione medica avanzata sarà gestita da 70 militari, divisi tra tecnici e personale sanitario. Siamo partiti in 90 per allestire il campo e naturalmente alle messe da palle vedete che la struttura è tutta quanta sua. Adesso siamo impegnati per gli allestimenti interni, quindi per il cabaggio elettrico, per la stesura dell'impianto d'ossigeno e come potete notare alle mie spalle, qui è un fermento di attività, non solo e soltanto dal personale delle forze armate, ma anche dal personale sanitario dell'ASRA, dal personale della protezione civile, dalle ditte che stanno concorrendo per l'impianto d'ossigeno, quindi si è formata nel vero senso della parola un bellissimo equipaggio. Non ci saranno posti letto dedicati alla terapia intensiva, sottolinea il comandante Sciruicchio, spiegando che verranno allestiti solo in caso di necessità. Potrà dunque essere fornita assistenza a pazienti Covid non particolarmente gravi, in modo da far rifiatare i pronto soccorso sovraccarichi di lavoro. La presa in carico dei malati sarà sempre effettuata dall'ospedale di Miccoli, che di volta in volta deciderà quale reparto assegnare i pazienti. La postazione medica avanzata messa in piedi dalla Marina Militare diventa quindi a tutti gli effetti un nuovo reparto Covid. Il personale sanitario della Marina Militare dipenderà dal personale dell'ospedale civile, di fatto però sarà responsabile di trattare direttamente qui nell'area d'agenza i personali. Negli scorsi mesi gli uomini della Marina Militare Reggimento San Marco hanno allestito agli Isi nelle Marche una postazione medica avanzata speculare a quella in via di costruzione a Barletta. L'esperienza in questo campo dunque non manca. Le tende in cui verranno accolti i pazienti, assicura il comandante Ciruicchio, saranno provviste di ogni comfort. Posso rassicurare tutti quanti che saranno allestite come se fossero delle corsie di ospedale, quindi ci saranno dei letti ospedalieri, dei testa letto che sono di fatto le apparecchiature che poi possiamo anche vedere dove arriva sia l'ossigeno che le eventuali utenze per le apparecchiature elettromedicali. Ci saranno tutti quanti comfort. Quelle che vedete, le macchine bianche che vedete alle mie spalle, sono degli impianti di climatizzazione che mantengono costante anche il microclima, quindi verrà riprodotta in tutto e per tutto quella che è una corsia di ospedale. È un onore, dicono dal primo reggimento San Marco, servire la popolazione italiana in questo momento particolarmente drammatico. Noi siamo di Brindisi, quindi giochiamo in casa e siamo anche onorati di mettere a disposizione del Paese la nostra professionalità e soprattutto nella nostra regione.